ciao a tutti oggi vi voglio parlare della mia esperienza al sana per chi di voi non la conoscenze è stata una fiera tenutasi dal 6 al 9 settembre a bologna sul biologico e sul naturale io ci sono andata domenica e insieme a una mia amica valentina che per chi mi seguo anche su facebook e con lei che mi aiuta a recensire alcuni prodotti perché insomma non posso provare tutto quindi quando lei prova qualcosa di diverso le recensisce lei se abbiamo provato qualcosa di uguale facciamo una recensione a due voci allora e questo è il Deppian che si poteva ritirare nel centro informativo all'ingresso della fiera dove sono elencati diversi espositori e qui alla fine c'era anche la cartina con questi padiglioni il 35 dedicato al benessere dove c'erano praticamente cosmetici però anche qualche punto esposizione sugli integratori qualche oggetto comunque soprattutto sulla cosmetica poi il 33 il 32 e il 31 era accettato sull'alimentazione e il 34 sul sana shop dove si potevano fare alcuni acquisti allora io purtroppo diciamo quel giorno è stato pieno gli imprevisti e quindi non sono stata tanto tempo non tutto il tempo che avrei voluto siccome la mente come prima esperienza mi è piaciuta molto e la ripetere l'anno prossimo sperando anche di organizzare il tutto meglio praticamente col poco tempo che ho avuto io ho visitato il padiglione 35 neanche tutto perché comunque molto grande io poi mi sono fermata a chiacchierare molto con diverse aziende adesso insomma vi racconto un po allora la fiera del sana come vi ho detto una fiera del biologico quindi si potevano trovare anche marche non proprio ecobio come l'erborario la winnis l'elan anche se adesso ha una linea bimbi certificata quindi ovviamente io ho dato più attenzione alle alle marche ecobio che più mi interessavano allora è anche sì volevo dirvi un'altra cosa è anche più una fiera espositiva nel senso si poteva acquistare poco si poteva acquistare ad esempio dati a natura visto da le cose della natura forse anche da qualche altro stand poi sì c'era quello 34 dove però io non ci sono stata quindi non so bene cosa si vendesse per ora fiera rivolta soprattutto a mostrare le novità infatti praticamente quasi ogni azienda ha portato le proprie novità e a prendere contatti anche con i rivenditori quindi poi chi più chi meno erano comunque molto più interessate a parlare con i rivenditori poi c'è stato gentilissimo chi comunque ha parlato anche come me insomma con i privati e quindi anche per quanto riguarda i campionci perché io sono andata per vedere le novità per poterne toccare con mano dovendo io puoi acquistare online e quindi così so già diciamo cosa uscirà e cosa più o meno già mi attira poi alcuni di loro hanno fornito dei campioncini chi più di chi meno sicuramente io penso che se quello è il motivo aziende più diciamo vecchie che si sono da tanti anni come può essere l'elbolario la forse la gialla vedeta davano la fornitura di campioncini molto più ampia rispetto assieme ad aziende ecobio che sono nascenti e sono insomma si sono formate da poco e quindi ancora devono lavorare da questo punto di vista ma io penso che sia normalissimo e sia anche normale che forse volessero dare più campioncini anche ai rivenditori per farsi un'idea e capire poi quali prodotti vendono o no comunque sono stata accolta da tutti gli stand insomma in modo molto gentile sono stati tutti molto carini allora naturalmente ho raccolto ecco spostato tutta la telecamera si telecamera cellulare tanti campioncini si allora campioncini che vi faccio vedere dopo parlandovi dell'unità tanti deppian ve li faccio vedere veloci in modo veloce per parlarvi delle novità allora puro bio non ha non ho visto novità almeno particolari non mi sono fermata molto perché i prodotti esposti cioè le matite occhi labbra il correttore e il mascara io posso tranquillamente andarmi da sbocciare nel negozio cuore bio perché recentemente ha messo questa linea ve la faccio vedere perché io sono stata contentissima non lo sapevo cuore bio è prodotta noci in provincia di bari quindi sono stata contentissima e lì avevano i taralli di giù che ho subito preso sia io che valentina ce ne siamo presi un po perché sono troppo buoni qua ci sono anche delle indicazioni per il trucco è questo poi l'almaca bio che io conosco la i detersivi questi scusate i detersivi e sto già provando qualcosa perché li tolgo da cuore bio non sapevo che facessero anche prodotti per il corpo visto bagno schiume detergenti mano insomma le ho presi per informarmi non avevano campioncini mi hanno proprio detto che non hanno nulla però diciamo sinifato un po i bagno schiume e avevano dei buoni profumi poi c'è l'optima che è la stessa casa che credo produce o comunque venda la dottor organic e ho già qua mi sono bloccata e perché stavo parlando con insomma la ragazza dello stand e qui in questo caso mia mi stava illustrando le integratori alimentari che comunque a me interessano molto perché io ogni tanto sono costretta comunque a prenderli e mi ha illustrato sulla dottor organic le novità che riguardano la linea cosmetica la bava di lumaca prima avevano solo una crema adesso hanno diversi prodotti solo che non avevano campioncini non mi hanno rilasciato dappi anni e poi da là sono andata via perché sono andata a salutare francesca di le chicche di chicca e chiara di wellness anche leon canale wellness with chiara che insomma forse molti di voi conoscono e siccome loro stavano andando via saremmo dovuti avremmo dovuto incontrarci prima ma appunto vi ho detto ho avuto questi diversi imprevisti insomma sono andata a salutarla lì poi a salutarle non mi è più venuta in mente di andare a parlare con la dottor organic e poi da là se ho visto ancora poco e poi siamo dovuti andare via quindi comunque anche lì ci sono delle novità mi pare dei guanti per le mani e piedi per comunque poi mi informerò ancora poi queste teanatura li vendevano io non ho comprato nulla proprio sul depian informativo ave loro presentato al sana il detersivo ri detersivo che è utilizzato da riciclo degli oli utilizzati proprio in casa per cucinare hanno vinto anche un premio per questo tipo di prodotto che non so bene quale sia poi in particolare ho notato qualcosa che mi ha attirato la maschera di sol gasol e niente questi sono insomma gli altri prodotti poi vabbè ho preso non so questo da dove l'ho preso però è sui colori significa dei colori quindi detto che carino me lo leggo questa è un'azienda che vende packaging però in realtà li vende più ai grossi rivenditori raramente i primi privati quindi sì mi sono fermata a parlare un po ma ovviamente anche andando sul sito non vendono diciamo al singolo o in piccole quantità perché richiedono che l'acquisto sia abbastanza c'è grande però insomma i packaging sembrano anche carini questo invece è uno stand diciamo tutto viola di queste cose la lavanda che non conosco meravigliosa l'ho preso per informarmi poi andrò sul sito ho preso anche questo perché prima o poi ho deciso che mi regalerò un diffusore ad oltre a suoni quelli che cambiano i colori dove si mettono gli oli essenziali sono andata a parlare anche con diciamo l'espositore di di leo che praticamente è utilizza diversi metodi fitoterapici ho provato qualcosa perché mi sono state date dei campioncini no ma anche ho comprato qualcosa dall'erboristeria qui a padova l'artiglio del diavolo quindi avendo visto l'espositore sono andata a fare una chiacchierata per capire meglio poi semmai piano piano anche quando avrò provato diversi prodotti ve ne parlerò e vabbè poi ho preso i i deplian che vengono forniti che ogni tanto trovo anche qui quello di natura si e cuori bio ok allora andiamo con le aziende cosmetiche che forse vi interessano ancora di più allora biohert sono andata a parlare ho chiesto se c'erano novità e mi hanno parlato di degli integratori in particolarmente fatti per adulti e per bambini non penso questo è solo sui capelli e comunque ci sono questi tipi di integratori c'è anche una nuova linea la rosa moscheta poi ho chiesto informazioni su di shampoo perché di shampoo della biohert mi incuriosiscono solo che io con i capelli vado sono molto particolare e volevo prima provare qualcosa quindi ho approfittato e chiesto appositamente i campioncini per capelli grassi e pesanti questi dovrebbero essere degli shampoo normalizzanti appunto per i capelli grassi con la forfora però anche pesanti quindi sarebbe per me idea se funzionasse se mi dessero un po di volume pulendo bene la cute sarebbe fantastico oltre campioncini quindi potrò provarli qua c'è quella brochure perché hanno anche una maschera il balsamo insomma da studiarmi poi vabbè loro mi hanno fatto vedere anche hanno fatto il gel dal col titrio già quello lo conoscevo poi allora sono passata da veleda vabbè l'ho messo in questa bustina e veleda io non ho provato tantissimo non so perché era una marca che inizialmente non mi ispirava però controllando gli inci insomma non è male allora qua ci sono i campi vabbè tutto il depian più grosso di tutti i prodotti e qua delle novità ossia questo gel gel alla calendula post depilazione però può essere utilizzata anche per altre irritazioni anche se c'è la calendula va bene anche se si apririto ecco qua oppure anche se sia qualche piccolissima scottatura poi hanno creato questo collirio che io sono molto interessata anche perché porto gli occhiali o lente a contatto questo ho avuto questo campioncino con la malva e una linea dedicata più diciamo alle signore alle pelli mature e ho qualche campioncino adesso vedrò se li userò io li darò a qualcuno che sono il trattamento giorno ricompattante un contorno occhi e labbra e non due contorni occhi e labbra anche questo è lo stesso di questo e poi ho avuto quest'altro campioncino che è un gel doccia della linea uomo vediamo se mio compagno vuole provarlo lo proverò anch'io insomma ecco questa è la veleda e la rimetto qua sennò creo che funziona poi io ho acquistato solo una cosa che però non sono convinta di aver fatto bene sono stata tirata da uno stand che aveva tutti questi profumatori per ambienti praticamente qua c'è dentro una gelatina tutto pieno di oli essenziali la marca è l'aromas naturales io non l'avevo mai sentita e credo che sia spagnola no qua dice torino però ha voluto da qualche altra parte che la spagnola comunque aveva tutti questi ho preso questo alla rosa ma beh voi non potete se qua c'è tutto l'olio non potete sentire la profumazione è molto buona hanno detto che una volta aperto profuma tutto l'ambiente dura tre anni quindi l'ho pagata 12 euro ed è ottima in caso di cefalea rilassante apatia nausea vabbè 18 ma fraganza per ambienti l'unico perché dopo mi sono accorta che non c'è l'inci da nessuna parte sono andata anche sul sito non l'ho trovato scriverò all'azienda per avere maggiori informazioni comunque profuma molto molto l'ambiente ed è ottimo allora siamo state io e valentina da maternatura maternatura allora abbiamo come campioncino e c'era solo questo la crema viso lenitiva alla peonia per quello che c'è loro sono state comunque gentili mi hanno parlato delle novità e mi hanno dato il la busta con il campioncino che hanno inserito ovviamente poi vedete quelle ne hanno tanti per quello dico secondo me perché comunque è un'azienda nuova non perché non voglia far conoscere i propri prodotti agli altri o dare attenzione questo allora tra l'altro nella busta ho trovato anche uno sconto da utilizzare e insomma sul loro sito c'è il depian e allora le novità della maternatura sono tre bagno doccia questo al bergamotto alla lavanda e alla malva io credo fosse piaciuto questo qua la malva e poi una maschera per capelli e semi di girasole ecco io questo forse l'avrei voluto provare per vedere se troppo pesante sui capelli però insomma aspetterò qualche recensione maternatura certificati c'è buono comunque era anche molto bellino lo stand poi allora vado questo che sicuramente siete tanto tanto interessati l'alchimia l'alchimilla ok allora io mi sono avvicinata perché avevano i profumi quindi subito sono andata a sniffarli scrivendomi anche il lume di quello che mi piace di più non mi ricordo quale ma ce l'ho scritto nel tacquino perché ordinando online è difficile sentire gli odori e prima di comprare un profumo grande insomma è bello sentire quindi ho approfittato e lì mi hanno dato qualche campioncino e dei depian allora intanto la crema eodermica che sono curiosa di provare quella anti age crema corpo alle calendali shampoo lavando e eucalipto arancio e limone questo l'ho già provato questo insomma praticamente sono prodotti che non ho ancora provato allora sapete tutti o chi non lo sa ve lo dico io l'alchimilla ha presentato come novità a parte vabbè sono usciti proprio da pochissimo gli oli essenziali e gli oli vegetali quasi sulla crema e l'altro sulla crema eodermi si vabbè basta termattiva scusatemi e i solari allora a parte quelli è uscita da poco la linea cosmetica non è uscita loro l'hanno presentata uscirà allora intanto già tra un po forse fine settembre usciranno i burro cacao che loro hanno chiamato un attimo che vado a prenderci ho qua il mio tacquino a dolci labbra quindi li chiameranno così ecco è molto carino il nome ci saranno credo due tipologie di questi burro cacao e anche quello vedremo come sono fatti e poi da fine ottobre e poi a seguire la loro linea make up allora praticamente già sto pensando al mio regalo di natale allora tra le varie cose hanno molto molto interessante una nf cream che sarebbe una natural finish cream che è diversa come mi è stato spiegato dalla bb cream dal fondotinta è una crema che fa da base trucco è bianca con dei puntini marroni praticamente quando si estende acquista il colore del viso è come se si adattasse alle caratteristiche del viso infatti loro ritengono sia adatta a tutti i tipi di pelle e può essere usata anche solo quella senza mettere né sotto crema né sopra altre fondotinta per curiosità abbiamo fatto truccare valentina che trucco cioè bellissimo li ha fatto non ha messo primer proprio per capire come sarebbe dato poi durante il resto delle ore della giornata il trucco gli ha messo questa nf cream e i correttori loro li hanno mi faranno sia in stick che liquidi poi hanno gli hanno anche mi pare con fondotinta ce ne hanno compatti liquidi però quello non ne hanno messo ha fatto un trucco occhi ci ha messo tanto tempo forse anche per quello insomma non abbiamo girato tantissimi stand ma ha truccato tutto l'occhio con i due colori del dorato è bello e il trucco ha reto tanto lei ha una pelle molto grassa diciamo molto più della mia è durato tanto anche a livello di lucidità insomma è molto interessante questa nf cream tra l'altro so che costerà 12 euro per mi pare 30 ml perché un prodotto che in effetti ne basta poichissime me lo sono messa sulla mano ne basta pochissimo e quindi loro dicono inutile fare un diciamo una quantità troppo ampia che poi va male poi c'erano gli ombretti io mi sono sbocciata subito quelli diciamo più scirme con i brillantini e quelli più matte scrivono un po meno però loro hanno detto che devono ancora lavorare sulla formulazione per quello non sono ancora usciti non avevo neanche il packaging anche il mascara che mi hanno fatto vedere avranno uno scovolino diverso l'avevo uno scovolino normale hanno detto che stanno lavorando molto sul packaging che sarà d'effetto perché il come loro affermano il makeup è anche diciamo è bello da vedere spesso noi donne lo collezioniamo il makeup quindi anche quello sarà molto interessante cosa altra non faranno per ora matite né pennelli si poi c'erano i bronzer le ciprie ecco bellissimi se riesco vi metto qualche foto qui da qualche parte o alla fine del video vediamo non so se riesco a montarle e anche le foto sono riuscita a farne poco perché all'inizio ne ho fatta qualcuno a cui ero talmente presa dalla fila dal parlare con le persone da vedere i prodotti che non ne ho fatte tantissimo però insomma vi sto mostrando adesso vado avanti perché sono i miei video come sempre sono lunghi lunghi poi mi sono avvicinata al stand dell'alma briosa che una marca che ho conosciuto grazie al sito line bella naturale ad azzurra e ve ne parlerò meglio perché ho provato alcuni prodotti ho visto la novità allora alcune novità che sono vi faccio subito vedere questi intanto la linea cosmetica al tè e al caffè che ce l'ho mi pare uno scrub ecco questo scrub ho visto wow che profumazione poi queste mossi detergenti da tante e poi io praticamente ho provato la linea viso alle quattro bacche e adatta più diciamo le pelli mature praticamente loro stanno facendo una linea adatta alle pelli più giovane ad un prezzo anche inferiore quindi fantastico poi ve ne parlerò questi sono i prodotti che già conoscevo come quelli le fitopomate con i fiori di bac e qua hanno anche dei gioielli loro la linea gioiellosa e come campioncini ho avuto questa crema idratante il questo è la fitopomata alla calendora sangue di grano il la crema viso questo nutriente antirughe no io volevo questo con l'antossidante ho avuto con l'antossidante da azzurra e poi una fitopomata al t3 ottima per i brufoletti quindi anche questo è una marca che io sto iniziando a conoscere ed è veramente molto interessante secondo me poi ha quasi finito allora sono stata da elan e perché ho chiesto se avessero intanto altre linee mi sono creato altre linee certificati cea a parte quella linea bimbi e poi io sapevo che avrebbero messo dei rossetti dei trucchi bio in effetti ho trovato tre rossetti e mi pare due matite labbra occhi e più ecco proprio metodo ora ce ne ho lasciato tantissimi campioncini io non ve li faccio vedere tutti se no il video dura ore eccoli tenete conto che queste buste rapine ce li siamo divisi tra me valentina e quelli più adatti alle pelle mature praticamente lei li porterà sua mamma quindi tenete conto qua ci sono li ho presi anche per capire l'inci ci sono anche quelli insomma vabbè non me li faccio vedere tutti poi ve ne parlerò e infine io mi sono firmata da arbanea non so se la conoscete un'azienda che produce molto venduta nelle rubirisseria produce diversi integratori ha anche qualche crema però che ha soprattutto integratori io avevo provato l'alle integratore quest'autunno ho provato cioè no quest'autunno è scossa primavera e penso che lo riutilizzerò anche quest'autunno avevo utilizzato l'integratore per le allergie a parte il ribes nero che un integratore che conteneva l'olio di perilla questo eccolo l'all'erba è senza glutine insomma può vivere per l'allermore meglio mi sono trovata bene siccome fanno anche linee che riguardano corpo capelli la cura delle unghie sono andata a parlare per informarmi un po mi hanno dato il depian e qui anche qui tanti tanti campioncini questi veramente interessanti quindi faccio vedere non li metto fuori se no ci sono quello della linea idrolinea integratore alimentare l'ananas poi quelli al caffè verde insomma ci sono diversi c'era anche mi hanno dato anche una crema e io ho visto l'inci di insomma in velocità questa per le gambe molto molto interessante ed era lì c'era buono quindi ecco tutti questi che poi tesserò e proverò ovviamente questi campioncini sono stati dati sia a me che a valentina quindi e poi ci siamo praticamente divisi quindi sono stessi e basta io poi all'entrata della proprio del padiglione 35 davano questa bella borsetta della lepo che utilizzerò per mettere tutti i prodotti finiti farvi video e la lepo non mi sono fermata facevano dei corsi molto interessanti non mi sono fermata a vedere tanto i prodotti perché la lepo spesso gli inci non sono buoni vanno studiati bene quindi insomma poi iniziano ad avere poco tempo iniziato a selezionare beh comunque è stata una fede che mi ha entusiasmata se ne avrò l'occasione l'anno prossimo tornerò e in realtà sono interessata anche ai copri che fanno anche dei corsi degli incontri ovviamente questo richiede il fatto di andarci più giorni e almeno per me per notare lì a bologna ci sto pensando ovviamente poi in basso il tempo disponibilità economica e tante cose vedrò però è veramente interessante anche interessante diciamo anche carino per passare una giornata anche alla conoscenza un po del mondo ecobio da anche la possibilità di conoscere varie persone perché di sfuggito io ho previsto azzura per esempio di bella naturale ma non l'ho riconosciuta dopo peccato però insomma oppure appunto incontrato francesca e chiara ecco è stata una bella giornata quando insomma passata lì ecco questo è tutto ovviamente io poi mi sono andata veloce o qualcosa mi sono persa se riesco vi metto un po di foto o in mezzo al video la fine se volete altre informazioni ovviamente anche per sui prodotti che avete visto sulle novità oppure per prepararvi per l'anno prossimo scrivetemi sotto nel box informativo e io vi saluto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti